Massima condivisione con gli ordini professionali, la soprintendenza e rappresentanti di categoria, ma soprattutto un clima di confronto sereno con le opposizioni a Palazzo Ducale. Il nuovo regolamento edilizio in casa è il primo sì in commissione urbanistica, un lavoro innovativo che comprende anche un glossario dei termini tecnici, diverse tabelle esplicative, nonché l'istituzione di una consulta istruttoria dei supporto agli uffici e agli utenti. Adesso sarà il Consiglio Comunale ad esaminare il testo che si pone già come regolamento pilota anche per altre realtà della Sardegna. Nei prossimi mesi saranno inoltre pronti i piani particolareggiati del centro storico di Tottubella e della zona del Sacro Cuore. Allo studio per la fine dell'anno una maxivariante frutto di un confronto con la regione e la soprintendenza sulla classificazione dei beni architettonici e paesaggistici. Sentiamo l'assessore d'urbanistica Gianni Carbini. L'importanza di questo regolamento va nel senso della semplificazione della chiarezza delle norme. Disciplina certamente la procedura anche per quanto riguarda le nuove costruzioni ma disciplina in modo particolare gli interventi che riguardano la riqualificazione del patrimonio esistente. Per cui tutta una serie di piccoli interventi che appunto possono migliorare il patrimonio di diritto esistente e possono dare anche un contributo dal punto di vista economico e occupazionale. Dopo l'approvazione in consiglio comunale si dovrà pronunciare la regione con la verifica di coerenza. Già in corso le interlocuzioni formali.